A effetto notte, protagonista è la regista Susanna Nicchiarelli con il film Chiara. La forza della storia del santo sanno il fatto che è la storia di un essere umano. Napoli magica! Venite, venite, venite. E poi faccia a faccia con Marco D'Amore, interprete e regista del film Napoli Magica. Effetto notte, venerdì in seconda serata.